...utilizzati in modalità aereo per tutta la durata del volo. Siete pregati di selezionare ora la modalità aereo e tenere in sicurezza i vostri dispositivi o di riporli in tasca. Se i vostri dispositivi e le loro batterie sono danneggiati, surriscaldati e vendono fumo o dovessero essere smarriti o cadere nella struttura del sedile, informate immediatamente gli assistenti di volo. Dispositivi più grandi, inclusi computer portabili, devono essere spenti e posizionati nel bagaglio a mano, nelle fasi di decollo e a terraggio. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un piacevole buro. Signore e signori, questo tipo d'aereo troverete 8 uscite d'emergenza e il giubbotto di salvataggio...